Dopo due mesi mi ha detto ti amo, leggiamo questa situazione, dice che cosa devo fare, esco con questa persona che è ancora impegnato con la moglie, dice però in fase di divorzio mi sto separando anch'io da un po' di tempo, ok, dice tutto alla grande, lui è superpreso, mi porta sempre fuori a cena in posti fantastici, non ha ancora detto nulla ovviamente ai figli di noi o della separazione. Ma ha già detto ti amo, in quel caso io gli ho risposto la stessa cosa, solo che non vorrei che lui fosse solo preso da quello e dal momento e si consumasse tutto troppo in fretta, insomma ho paura che questo sia un love bombing, allora che cosa devo fare per tenerlo ancora a me e evitare che si stanchi? Una sola cosa, togliere il ti amo dal tuo vocabolario, cioè questa parola anche se ti è stata detta non è che deve essere ricambiata per forza, non deve essere detta per forza, non deve essere trasmessa per forza. Fermati il ti amo, non deve essere abusato. Non utilizziamo il ti amo, non utilizziamo questo ti amo a cazzo. Mi ricordo ancora, feci un tema in quarto liceo e scrissi in questo tema, ancora me lo ricordo, forse il professore se lo ricorda, scrissi lamentandomi di quanto il ti amo fosse una cosa buttata al vento, quindi già quando avevo 16 anni, credo non so, 16-17 anni, parlavo di questa cosa. Il ti amo è una dinamica o comunque è un messaggio da dare raro, non deve essere sperperato, non deve essere ripetuto, deve essere detto con attenzione quando viene detto e non con facilità. Ecco, questo che ti sto dicendo perché? Perché vorrei che ti riprogrammassi cerebralmente, mentalmente, inconsciamente, come vuoi, a pensarla anche tu in questo modo, perché il ti amo vuoi tenerlo fuori, quindi vuoi tenerlo fuori dal tuo range. Dire ti amo facilmente a una persona non deve accadere, quindi lascia che sia lui a dirti ti amo. Tu non dire sempre anch'io, puoi dire grazie, mi piace molto quando me lo dici, o ancora, quando ti dice ti amo puoi dirgli che addirittura ti fa piacere nel senso fisico il fatto che te lo dica, ti accenda fisicamente, questo è un modo per invogliarlo a dirti ancora ti amo, invogliarlo a investire con le parole nei tuoi confronti e poi alla fine ritrovarsi però a dover aspettare che tu glielo dica. Il rapporto e il ratio, quindi il rapporto di ti amo a ti amo dovrebbe essere uno a tre, uno a due, quindi due volte lo fa lui, una volta glielo dici tu. Questo radio, questo rapporto tra ti amo tu e ti amo suo, per quanto possa sembrare una cosa stupida, ti aiuterà a tenere comunque la linea sempre con lo stesso modo. E quando chiedi che cos'è che devo fare per evitare che si stanchi, quello che stai già facendo, perché nel momento in cui tu ottieni i risultati, questa è la terza volta che te lo dico, ma te lo ripeterò sempre perché è importante, poi inizialmente uno quando hai preso i risultati strafa, ok? Quindi vai a strafare, te lo ripeterò perché è importante lo di ricordare che quando sta andando bene il rapporto sentimentale, sta andando bene la relazione, sta andando bene il contesto amoroso o quello che sia, è perché hai fatto una cosa buona, fino adesso hai operato bene e quindi continua a operare bene, non andare a raggiungere però a meno che non sia, cioè se la cosa peggiora in performance puoi cambiare, non è che aggiungi, cambi qualcosa che stai facendo e provi altre cose, ma se non sta peggiorando la performance va bene, non ci sono problemi, la relazione va avanti, ce la facciamo eccetera, continua a fare quello che hai fatto fino adesso con questa miglioria. Il ti amo tra l'altro è detto a parole, non stiamo parlando di una persona che ha lasciato la moglie e ha reso pubblica la vostra relazione e tutto, no, è stato detto a parole e ricorda che scripta manent, verba volant, in questo caso acta non verba si potrebbe dire, quindi fatti non parole, cioè i fatti significa che deve anche portarlo e dimostrarlo, cioè non deve essere soltanto, si ti amo però aspetta un attimo, intanto sto con mia moglie, sto con mia, no, ti dice ti amo, bene, vediamo nel tempo che succede, sempre con la prova a queste persone, sempre testarle, gli uomini vanno sempre ritestati, rivalutati, non ti devi adagiare sugli allori, non ti devi fermare, non devi pensare che sei arrivata, mai pensare queste cose e non devi pensare di aggiungere altre cose da fare, nel momento in cui tu pensi di aggiungere altre cose da fare, eccola là che è finita la relazione e va tutto all'aria, perché aggiungi altre cose da fare e stai strafacendo, ok, quindi strafare e anche questo non deve verificarsi. Mi raccomando l'attenzione sul rapporto del ti amo-tiamo, attenzione alla mentalità al fatto e non al verbo, questa è una cosa fondamentale secondo me, fammi sapere come va e ti faccio un bocca al lupo.